Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio della Regione Toscana. Partiamo subito dunque con i titoli degli argomenti che andremo a trattare all'interno di questa puntata. Fondi europei 2,3 miliardi in sette anni alla Toscana. Sostegno alle imprese dell'innovazione. 2,3 miliardi in sette anni è la cifra complessiva derivante dai fondi europei che la Toscana potrà gestire direttamente nel periodo 2021-2027. A comunicarlo al Consiglio regionale è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Rispetto ai fondi europei 21-27, noi abbiamo a disposizione sui quattro fondi 3 miliardi e 3, insomma ritengo che sia stato un grande successo. È evidente che si tratta di quattro fondi e quindi naturalmente in primo luogo quello più importante, il FESRE, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. In questo caso noi abbiamo davvero nel miliardo e due del FESRE tutte le condizioni per poter operare come rescita, diciamo così, la voce divisa dell'Europa dell'ostanziamento un'Europa più intelligente, un'Europa più verde, un'Europa più connessa, un'Europa più innovativa. Sul FESRE noi puntiamo molto sui fondi per lo sviluppo, l'investimento, l'adeguamento delle imprese e devo dire che pioveranno sulle imprese in Toscana più di 500 milioni in questi sette anni. Contemporaneamente puntiamo molto sull'altro, il secondo fondo, il Fondo Sociale Europeo per arrivare a quell'obiettivo che io mi prefiguro, fra un anno o due, di una bella quantità di risorse per garantire alle famiglie che hanno 30, massimo 40 mila euro di reddito annuo, la possibilità dell'asilo gratis per i loro bambini, che vi è in questo Fondo Sociale Europeo tante risorse per quello che sono i fondi per l'occupazione, le politiche attive del lavoro. Devo dire che poi su quello che riguarda i fondi europei noi metteremo e giocheremo molto nell'infrastrutturazione, soldi per la tramvia, per le piste ciclabili, per mezzi ecologici e vi sarà quel respiro che consente anche da un punto di vista di investimenti infrastrutturali per l'innovazione, di avere tante risorse per poter consentire alla pubblica amministrazione di rinnovare quelle che sono le forme di rapporto con il cittadino, proprio puntando sulla infrastrutturazione digitale. Intanto sono arrivati tanti soldi che dalla comunicazione del Presidente andranno a sostegno. Io credo che è vero, è giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende, è nostro dovere, ma è anche nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare, perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa dove c'è la vera economia. Ecco noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare, la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad essere, ad elevarsi a regione guida perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana e questo deve essere il messaggio, un messaggio propositivo e non un messaggio esclusivo di sostegno che serve ma serve per poi dopo dare un indirizzo a tutto quello che deve essere l'economia della Toscana. C'è intanto un dato di fatto positivo che mi fa piacere sottolineare. Evidentemente chi ha preceduto questa giunta o non era così tanto capace di fare le trattative in sede europea o in sede di Assemblea Stato-Regioni oppure non era in grado di spendere in maniera opportuna i soldi. Visto che il primo dato che ci è stato riferito è che la Toscana per i prossimi sette anni ha preso un terzo in più di fondi dall'Europa rispetto agli ultimi sette anni. Quindi il grande governatore Rossi che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana ne prendeva un terzo in meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Poi ci sono tutti i dati negativi e i dati negativi sono il fatto che la regione Toscana è ancora lontana, anni luce, dalle regioni virtuose del nord sotto tanti aspetti. Ne dico una su tutti. Si parla tanto di mobilità sostenibile. La Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale. La Lombardia ne ha il doppio. Il trasporto pubblico su gomma è ancora il trasporto pubblico predominante in Toscana. Si parla di adeguamento di strutture alla normativa antisismica ma si parla soltanto di strutture sanitarie e ospedaliere che per l'amor di Dio hanno bisogno di essere adeguata ma non c'è una parola o una sulle strutture scolastiche. Noi abbiamo ancora scuole in Toscana che sembrano essere uscite dal libro cuore dell'Ottocento quindi c'è ancora tanto da fare. Si tratta di risorse importanti e le priorità sono quelle di aiutare la Toscana a ripartire dopo la pandemia. Ovviamente dovremo agire sui settori che sono trainanti per la Toscana che sono quelli dell'export ma anche quelli che invece vanno ad agire su un mercato che è rivolto alla domanda interna che ha bisogno comunque di recuperare e di essere rilanciata. La cosa importante è che queste risorse che comunque aiuteranno alla transizione verso un'economia maggiormente sostenibile, verso la digitalizzazione per una migliore sanità, per una maggiore coesione sociale e quindi servizi che sono rivolti alle popolazioni più bisognose ad iniziare dalla popolazione anziana. Tutte queste priorità fa l'atto coincidono con le priorità che sono contenute nelle sei missioni del PNRR quindi sarà importante cercare di armonizzare gli interventi, quindi avere un quadro complessivo di finanziamenti da dirottare sui settori finanziabili con il PNRR e invece finanziare altri settori non riconducibili alle provvidenze del PNRR da finanziare con la programmazione ordinaria o con i fondi aggiuntivi 30 miliardi che il Governo ha messo a disposizione. Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire, le risorse comunitarie certe queste sono sicure, dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro, consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità, consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale, rispetto agli impegni culturali, dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo, con queste risorse faccia uno scatto in avanti, richiamo di queste ore anche della richiesta dei giovani di avere più ambiente, una Toscana più innovativa e poi soprattutto infrastrutture e lavoro credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse, quindi noi ci batteremo in questi anni per allocare queste risorse nel modo più congruo e utile per la Toscana. Abbiamo ascoltato la grande narrazione del Presidente Gianni in aula su un documento che ci è stato presentato una settimana scorsa, un documento che sostanzialmente fa una narrazione molto curiosa della situazione pre-pandemica e soprattutto pre-pandemica in Toscana e su quello sostanzialmente che deve essere il modo superandi per investire nel momento in cui andiamo a ripartire tutti assieme. Ora torneremo in aula a metà di ottobre e Fratelli d'Italia ha intenzione sostanzialmente di rispondere a questo papier presentato oggi dal Presidente Gianni con proposte sostanzialmente costruttive capaci di portare un contributo a una narrazione che rimane sostanzialmente fino ad oggi molto generica e sui generis. È avvenuto nell'auditorium del Palazzo del Pegaso l'incontro con le start-up che si sono aggiudicate i primi contributi della nuova legge regionale. Presenti il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e l'Assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras. Credo che ciascuno di noi debba continuare a mandare un messaggio forte come istituzioni che noi siamo al fianco di chi vuole scommettere su costruire nuovo lavoro, nuova occupazione. Abbiamo ascoltato anche tante cose che possono essere migliorate però nelle parole delle ragazze e dei ragazzi, da quelli più giovani a chi ha più esperienza c'è l'idea di questa Toscana, della nostra Toscana, una Toscana che vuole scommettere sul futuro, che vuole scommettere sull'impresa, sul lavoro di qualità, a noi il compito di sostenerli. Il messaggio voluto mandare è esattamente lo stesso che nel febbraio 2020 all'approvazione della legge, vissi con chiarezza, noi dobbiamo essere al fianco di chiunque vuole fare impresa e vuole scommettere sul proprio futuro. Il modo migliore sia quello di sostenere le imprese nella loro crescita, dall'inizio quando sono nella fase davvero di ricerca dei primi finanziamenti e qui c'erano 30 imprese che hanno ricevuto il sostegno di circa 50.000 euro da parte di Regione Toscana con la legge sull'innovazione, ma anche aiutarli alla ricerca di Venture Cap, con i prossimi fondi strutturali avremo le risorse per sostenere e anche entrare nel capitale di rischio delle imprese con quel modello chiamato di pari passo, cioè se un investitore privato investe 100 la Regione fa altrettanto all'interno delle imprese, dobbiamo lavorare molto sulla semplificazione, loro devono pensare a costruire il business, a trasformare la ricerca in valore e meno le questioni amministrative perché non hanno neanche le competenze al proprio interno e poi incentivare ancora con più forza la figura del temporary manager, cioè le aziende, quelle più piccole hanno bisogno di alcune competenze che forse non hanno al loro interno e noi dobbiamo sostenerli mettendo a disposizione coloro i quali possono aiutare a crescere e a cercare mercato. Tra le start-up toscane che si sono aggiudicate i contributi del primo bando, società per la creazione di sofisticate macchine per la stampa 3D, in particolare per il metallo e aziende impegnate nel settore agrotec. Il problema fondamentale è quello di cercare di risparmiare energia e risorse per la coltivazione di cibo vegetale. Normalmente nelle serre tradizionali, quelle che tutte conosciamo, si utilizza un volume molto grande rispetto alla dimensione effettiva della pianta, quindi vi è la necessità di condizionare un volume molto grande che disperde molto energia perché le serre normalmente non sono realtà coibentate perché devono far passare la luce. Quindi condizionare un ambiente molto grande necessita di molta energia che viene dispersa. La nostra idea, che è un'idea brevettata, è quella di inseguire la crescita delle piante, cioè le piante quando vengono seminate non hanno bisogno di un grosso volume di condizionamento e quindi questa serra cresce insieme con la pianta. Noi l'abbiamo chiamata serra adattiva o adattativa perché si adatta alle necessità delle piante. Le piante crescendo hanno bisogno di un volume maggiore e questo volume viene condizionato in maniera crescente. Questo cosa porta? Porta a un enorme risparmio di energia perché ovviamente una serra può contenere migliaia di metri cubi di aria che devono essere condizionata, mentre in un contesto adattivo la serra insegue la crescita della pianta e quindi vi sono anche due o tre ordini di grandezza in meno di volume da condizionare. Questo ovviamente porta minore combustibile da bruciare per poter condizionare l'ambiente e porta tutta una serie di vantaggi che sono nel solco adesso dell'economia più interessante, cioè del risparmio energetico, della possibilità di migliorare la produzione e quant'altro. È una start up nata anno scorso per la realizzazione di stampanti 3D, in particolare per il settore delle leghe preziose e dei metalli, in particolare quindi oggetti in acciaio. È una tecnologia estremamente innovativa, tant'è appunto che abbiamo già ottenuto tre brevetti per questa tecnologia e siamo qui anche grazie alla misura appunto fornite dalla regione, perché grazie ad esse siamo riusciti a creare il primo prototipo. Di lì poi abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto con potenziali clienti e abbiamo riscosso, devo dire, grande successo. Ad oggi forse il problema è quello di soddisfare proprio la richiesta di questi clienti che richiedono di fatto da realizzazioni di macchinari ancora più prestanti, quindi in particolare magari a spingersi fino a 500.000 euro e tali clienti appunto volendo sfruttare la Sabatini diciamo si fermano a dare il 10%. Chissà che magari con la regione non sia possibile trovare delle soluzioni ad hoc anche per aziende, per start up nella nostra stessa situazione. Ed è tutto, si conclude anche questa puntata di cronache e commenti. Vi ricordo che l'appuntamento con la trasmissione dedicata all'attività del Consiglio della Regione Toscana torna la prossima settimana.